Ci divertiremo, it's the adventure time! Che cazzo gano! Ma coi- eh! Stavo cantando, era un rito satanico, lo giuro. Stavo cantando da mezz'ora. Immagino le altre persone come l'abbiano presa. Ho rimorchiato pure, ho trovato una tipa che mi ha detto sei figo. Non ho capito il perché. Ti ha dato il suo Instagram? No. Esatto, ti ha metto un flippetto d'argento e tu non gli chiedi Instagram.